allora sono qui sempre su istruzione merito per entrare in commissione web voglio entrare sempre con la CIE però ho visto che entrare con livello 3 è abbastanza lento e voglio provare a entrare con QR code direttamente perché comunque devo usare QR code devo usare la carta vediamo se è più lento no perché da questo punto rimango con la speed vabbè questa è l'alternativa se non dovesse funzionare una comunque provo a entrare a questo punto perché io qui non mi ricordo adesso dovrò anche a vedere avere questa terza possibilità dunque entra con la lettura della carta CIE è un po lento adesso entriamo con l'app dunque apro l'app qua chiudi entra con QR code dunque metto con qr code scannerizzo il qr code a hai bisogno di certificare il tuo dispositivo per poter accedere alla funzionalità livello 2 e dunque certifica il dispositivo però mi chiede va bene codice fiscale la password però io devo andare a trovare la password e dunque devo adesso lo faccio dopo devo perché sennò andare a cercare perdo tempo devo andare nelle carte a vedere inserisci le credenziali CIE dunque mi serve la password che non ricordo va bene ci vediamo dopo provo inserisci le credenziali CIE inserisci le credenziali CIE